Caso Manzo la svolta è vicina dopo un anno e mezzo circa dalla scomparsa del 69enne di Prata sembra essere finalmente arrivato il momento della verità, quella che da 17 mesi chiedono i familiari di Mimim Manzo che non hanno mai creduto neppure per un giorno all'ipotesi dell'allontanamento volontario. In particolare le sorelle dell'uomo fin da subito hanno pensato al peggio ed hanno sempre chiesto di cercare un colpevole nella cerchia delle conoscenze del fratello, concetto che hanno ribadito con ancora più forza da quando Romina, la figlia di Mimì, è stata iscritta nel registro degli indagati. Da qualche settimana le indagini hanno subito un'accelerata che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di altre due persone, un'amica di Romina e l'ex fidanzato della ragazza. Ieri sono state ascoltate in procura altre due persone, Francesco, il figlio più piccolo di Mimim Manzo, è un collega dello scomparso. Si tratta dell'uomo che una vicina dei Manzo disse di aver visto caricare in auto Mimì, dichiarazione poi ritrattata, lo stesso uomo che secondo il fratello di Manzo aveva contratto dei debiti con Mimì. L'uomo è stato ascoltato per circa due ore e al momento non risulta indagato, così come il fratello di Romina che è stato sentito a sommare informazioni e per poco tempo. L'altra novità è rappresentata dal sequestro dell'auto presa in fitto da Romina e utilizzata dalla sua amica, veicolo restituito al concessionario con danni alla carrozzeria e molto sporco di fango e fogliame, in particolare nel bagagliaio. Sull'auto si stanno eseguendo accertamenti tecnici. Infine, ma questo pare essere l'aspetto più importante per arrivare alla svolta definitiva, la procura cerca i video nei quali ci sono le ultime immagini di Mimì Manzo. E' questa la seconda attività investigativa avviata nelle ultime ore, durante le quali sono state eseguite due perquisizioni domiciliari e veicolari nei confronti di altre tante persone, tra Prata e Prato la Serra, due uomini che partecipando alle prime ricerche di Mimì nei giorni successivi avrebbero acquisito l'hard disk delle riprese video delle telecamere di un ristorante dove Mimì era passato poco prima che si perdessero le sue tracce. Dopo 17 mesi, a breve, potrebbe essere svelato il mistero della scomparsa del 69enne di Prata Principato Ultra.